Ciao! Ragazzi, oggi ho querellato di nuovo e quindi ho prodotto nuove clip per il dipinto che ho fatto. Anche perché, visto che siete tutti più o meno contenti di questo sistema con la webcam, io finché non risolvo gli inghippi con la telecamerona, vado avanti così. Ovviamente la qualità non è il massimo, lo sapete anche voi, la messa a fuoco è quel che è, perché la telecamerina, la mia palletta, c'ha il fuoco manuale che praticamente è una sorta di rotellina che si gira. Però è abbastanza un casino per me dipingere e stare sempre lì a mettere a fuoco, quindi insomma il fuoco sarà quel che è. Però vedo che vi piacciono lo stesso, nonostante anche il numero infinito di clip che dovete guardare ogni volta, perciò io vado avanti così. Poi fatemi sempre sapere voi se c'è qualcosa che posso migliorare, se posso far diversamente, eccetera. Sono contenta che mi abbiate detto che vi va bene così con la mia voce che parla, piuttosto che la musica, significa che forse non dico totalmente scempiaggini. E quindi ho fatto questo dipinto. Siccome io ultimamente mi sto esercitando, sto studiando un po' di cose nuove, soggetti nuovi, quindi dai bambini alle piante, nuovi paesaggi, e sto studiando un po' anche gli animali. E quindi ho deciso di cogliere le due cose, quindi il mio bisogno di studio e le vostre richieste, e ho realizzato un dipinto di un animale, visto che alcuni di voi avevano fatto questa richiesta specifica. Però non immaginerete, secondo me, di che animale si tratta. Perché generalmente quando si disegna, si dipinge, si pensa a un animale da dipingere, si pensa al solito animale carino, cuccoloso, quindi il cane, il gatto, il coniglietto, il cricetino, qualcosa di carino, domestico. E invece io no, invece ho fatto un animale che secondo me è troppo poco considerato da vivo, vivo e crudo, ovvero, ho fatto la gallina. Ne ho fatte ben due, tra l'altro, più il pulzino, un pulzino qua, se non lo vedete mai. Allora, quella che ho ripreso mentre dipingevo è questa, quella più grande. Questa qui invece, quella sotto, che vedete, con questo sfondo assurdo, tipo flash, tipo globi di luce, questa cosa un po' strana. Questa qui l'ho ripresa per farvi vedere, dopo che l'avevo già dipinta da acquarello, per farvi vedere lo sfondo che ho realizzato andando sopra l'acquarello con dei pastelli, dei gessetti. E quindi volevo farvi vedere questa tecnica, praticamente il verde, che voi vedete, non è fatto da acquarello, ma è fatto con il gessetto, solo il verde, il resto è fatto con l'acquarello. E invece il, diciamo, video, quello principale, in cui vi mostro come si dipinge da acquarello la gallina, è di questo qua, di questo dipinto qua. Il pulcino è una prova matita, uno studio che ho fatto. Dunque, ve lo faccio vedere da lontano perché ha veramente tutta un'altra resa, completamente diversa. Infatti, quello che voi vedrete nel video è molto più scuro perché ha dovuto abbassare tanto le luci, altrimenti non si sarebbe visto molto, perché appunto ha usato colori abbastanza tenui. Perché la foto era molto in luce, volevo mantenere una coerenza con la foto. Ecco, questa è la mia gallina e, tra l'altro, dedico questi video alla gallina Caterina, che è la gallina di una mia amica, che ha anche un canale qua su YouTube dove mostra i video della sua gallina. E quindi lo dedico a Caterina. Ciao Caterina, ciao Simo. E niente, ragazzi, io spero che la gallina vi piaccia, che vi interessi come soggetto, ma, insomma, anche se non vi interessasse come soggetto, spero che vi interessi almeno come realizzazione pittorica. Ecco, e se non vi interessa fatevela piacere, no, è scherzo. E magari verrò fuori con qualche altro animale, prossimamente non vi preoccupate, devo studiare un po' tutti gli animali da fattoria comunque, perché sono dei soggetti classici. Bisogna, quindi le mucche, i maialini, gli agnellini, le pecorelli, le caprette, insomma, tutti questi animali qua. Quindi ne farò altri. Basta, detto questo, io vi esorto ancora una volta a contattarmi per qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, qualsiasi critica, qualsiasi cosa vogliate comunicare con me, comunicare a me, qualsiasi cosa vogliate comunicarmi, vabbè, 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 vabbè. Comunque, sì, se dovete chiedermi qualcosa di consistente, magari scrivetemi una mail, sempre qui su YouTube oppure su Facebook. Su Facebook mi trovate anche online a volte, se vi va di fare quattro chiacchiere non mordo, quindi volentierissimo. E tutto qua, basta. Poi, sto veramente pensando al discorso dei concorsi, cioè di fare un concorso qua sul mio profilo, come cavolo si chiama, sulla mia pagina, sul mio canale, ok? Me sto perdendo, ragazzi, scusatemi. E sì, sto pensando di fare un concorso, però vorrei arrivare ad un numero abbastanza consistente, insomma, vorrei fare, che ne so, ai 500 fare il concorso, ai 1000 è ancora meglio. E sto pensando ai premi, perché non è come per i concorsi di make-up dove è facile, perché metti in palio dei rossetti, degli ombretti, di quelle cose lì, insomma, quelle succose cose lì, invece per il mio canale è più difficile. E quindi, troverò qualcosa, non vi preoccupate. So che molti di voi mi diranno, eh, ma perché non metti in palio una tua illustrazione? Già, vedremo, ci penserò, però l'illustrazione è una cosa grossa, e quindi la metterei in palio, sì, ma ai 1000 iscritti. Quindi vi dovete impegnare. Iscrivetevi. Don't, that's. Voi vi scrivete, e io poi metto in palio l'illustrazione. Dai, ragazzi, basta così perché non ce la faccio. Spero che seguiate i prossimi video, e un bacione a tutti, e buona continuazione di settimana. Ciao! Ciao!